San Valentino Torio si veste d'amore per celebrare San Valentino, patrono del Comune dell'Agro e simbolo degli innamorati, una tradizione che ha radici profonde che dopo le restrizioni della pandemia, quest'anno è tornata in grande stile. I festeggiamenti sono iniziati venerdì e proseguiranno fino a martedì, giorno in cui il Comune Salernitano si trasformerà nella patria degli innamorati. Sono tante le iniziative di carattere religioso e civile che puntano ad unire tutti, anche coloro che vengono dagli altri paesi, dagli altri comuni a visitare, a unirli secondo questi valori, questi valori di comunità, di solidarietà, di amicizia e di amore evangelico, perché l'amore non è solo l'amore tra uomo e donna, ma è l'amore per tutte le cose della vita. Il programma civile è interamente racchiuso nella rassegna San Valentini Love, cartellone che prevede iniziative culturali, musicali, installazioni luminose ed eventi enogastronomici, con la polpetta di pasta e naca assoluta protagonista, ma chiaramente ci sarà spazio anche per le celebrazioni religiose in onore di San Valentino. Dopo gli anni che abbiamo vissuto della pandemia e le chiusure relative al Covid-19, oggi possiamo riprendere in bellezza anche questo momento di festa e soprattutto momento del popolo.